Nuovo Air Fresh Solid, profumo di casa mia. Profumo? Ma allora è più di un deodorante. Basta sollevare il coperchio di due centimetri. Vediamo. Air Fresh Solid ti porta in casa il profumo dei fiori. Vedi? Persino in cucina. Eh sì, nuovo Air Fresh Solid fa fiorire la tua casa per un mese. Col profumo di lavanda, di bosco, di primavera o di menta. Air Fresh fa fiorire la tua casa. È un prodotto Cibacaiki. Al prossimo episodio